Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è martedì 27 settembre 2022 e i giornali Molto più di ieri sono ricchi di dati, di simboli per i risultati delle elezioni al Parlamento italiano Vediamo chi sono gli eletti, vediamo come saranno e come sono i primi commenti per quanto riguarda i risultati E vedremo chi saranno i nostri rappresentanti, rappresentanti di tutta la Regione Marche in Parlamento Ma prima di questo passiamo attraverso l'Almanacco per il Santo del Giorno Oggi si festeggia San Vincenzo de Paoli, anche questo è un grande santo Fu un uomo di carità, nacque in Francia nel 1581 Fu un grande attivista, aprì orfanatroferi, ricoveri, ritiri perdementi, fondò seminari e visse una vita ricca di buone opere Fu dichiarato santo da Papa Leone XIII e addirittura la Francia Atea gli dedicò un monumento Fu dichiarato patrono universale delle congregazioni di carità Vediamo ora le previsioni del tempo Il tempo è variabile Una giornata all'insegna della variabilità su tutta la Regione con un'alternanza di piogge alternate a schiarite Tempo più asciutto sulla costa Venti e rinforzo da sud-ovest Sulle coste espireranno appunto da una direzione di sud-ovest Mentre nell'entroterra da ovest-sud-ovest Le temperature sono in calo Si aggireranno dai 14 ai 23 gradi Il mare è mosso Ed ora apriamo i giornali Ma prima passiamo a vedere un'immagine di Fano Un'immagine della Sassonia Siamo nella spiaggia della Sassonia Nei pressi dell'hotel Continental C'è ancora molta foschia La giornata tarda a schiarirsi Il sole è un po' stanco Questa mattina E vedremo poi se acquisterà calore e colore per questa giornata Ed ora veramente passiamo alle notizie Di carattere locale A partire dalla prima pagina Del resto del Carlino Che sintetizza un po' quello che dovrò dirvi più avanti Carloni e Baldelli vanno a Roma Il titolo che evidenzia i due personaggi Magari più significativi Per la provincia di Pesaro Urbino Eletti il leghista fanese E il fratello dell'assessore regionale E intanto c'è una novità Una novità perché il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Si candida per il dopo letta Per il segretariato del Partito Democratico Dalla disfatta elettorale al congresso Il sindaco si iscrive alla corsa per la segreteria nazionale E poi vediamo gli altri titoli Disastro del Partito Democratico Ma il partito resta primo in città per pochi voti Si parla ovviamente di Pesaro In regione via tre assessori E vedremo come cambia la giunta a Acquaroli Ancora i nomi non si sanno Qualcuno fa delle supposizioni Ma tutto poi rimane nelle decisioni Nelle decisioni dell'attuale presidente della regione E poi i dati I dati, i risultati comune per comune Fratelli d'Italia domina ovunque Una affermazione generale in tutta Italia In tutte le regioni, in tutte le province In tutte le località I verdetti Vedremo chi sono i 15 promossi In rappresentanza delle Marche Marchetti è sul filo di lana E in poi le tendenze Meloni prende anche Fano A Urbino i Dem restano avanti E poi vediamo le altre notizie Le altre notizie Si parla oggi sui giornali Del crack della banca delle Marche La procura chiede 13 anni Per l'ex direttore Bianconi Ma sono anche altri Gli imputati per questo crack E poi ci sono polemiche Per la trasferta di Ricci negli Stati Uniti Per quanto riguarda l'inaugurazione Della stella dedicata a Pavarotti E poi proteste per quanto riguarda la sanità Lancio di escrementi Contro l'ospedale San Salvatore di Pesaro E allora il Corriere Adriatico Invece da grande spazio A tutte le notizie elettorali I giornali addirittura Comune per comune Oggi evidenziano i risultati Che sono emersi dalle urne Dal comune più piccolo Al comune più grande Quindi sono giornali Da conservare come dire Perché le elezioni Di quest'anno Di insomma Di questa volta Hanno cambiato un po' L'assetto dell'Italia E per la prima volta Sembra che ci sia veramente Una presidente del Consiglio Donna Quindi è un evento Di carattere storico Allora Continuiamo con il resto del Carlino Questa mattina Apriamo il giornale E vediamo subito Una selva di simboli E una selva Di Di I nomi E di fotografie Cerchiamo di avere Una sintesi Delle notizie In queste due pagine Abbiamo i due Personaggi significativi Della provincia Di Pesaro Albino Che sono eletti In Parlamento Si tratta di Antonio Baldelli Antonio Baldelli Vola sulle ali Della Meloni Antonio Baldelli Eletto sulle liste Di Fratelli d'Italia Ora al lavoro Per le mie marche Ha dichiarato E' il fratello Dell'assessore regionale Francesco Baldelli L'assessore regionale Alle infrastrutture Nella sua pergola Ha raccolto Il dato record Del 46,81% E' il primo parlamentare Della Val Cesano Dopo Giovanni Venturi Che fu senatore A cavallo Negli anni 60 E i primi Del 90 E poi Le priorità Prima di tutto Ha detto Baldelli Mi occuperò Dell'emergenza Poi parrò L'attenzione Dell'esecutivo I dossier Più importanti Della nostra regione L'emergenza E' quella Che si riferisce Ovviamente All'alluvione Da Fano Invece Va a Roma Mirco Carloni Da Fano A Roma Passando Per Ancona Cioè Era vicepresidente Della giunta regionale Carloni C'è un grande lavoro Di squadra Ha dedicato Appunto La sua vittoria Al partito Che l'ha sostenuto Ormai L'ex assessore Regionale Della Lega Va alla Camera Abbiamo ottenuto Voti Anche nei comuni Rossi Ha evidenziato Le preferenze I voti Ottenuti Da Carloni Sono 83.393 Come esponente Della Lega Nella coalizione Del centro-destra E qui ci sono Le prime dichiarazioni Per una intervista Che è stata fatta Da Maurizio Gennari Del Carlino Giriamo pagina E vediamo Gli altri candidati Bellucci Del Partito Democratico Una dichiarazione Siamo primi in città Nonostante tutto Malandrino Di Forza Dei Fratelli D'Italia Replica Per noi Una crescita Esponenziale A Pesaro I Dem Sono il partito Più votato Ma Per un pugno Di preferenze Il calo È stato significativo Anche in questa città Roccaforte Della sinistra I Meloniani Passano dal 4 Invece al 25% In appena 4 anni Una crescita Esponenziale E intanto Ricci prova A giocarsela Per il Dopoletta C'è anche lui Nella corsa Verso la segreteria Il sindaco Scende in campo In vista del prossimo Congresso Che è stato annunciato Da Letta Subito dopo Il risultato Delle elezioni Un congresso In cui Letta Non si ripresenterà Lo ha dichiarato Quindi I giochi Sono aperti Per tutti E Matteo Ricci è Della partita Gli hanno chiesto Amministratori Lo hanno chiesto Questo incarico Questa adesione Gli amministratori E lui vicini E il sindaco Sta valutando Gli altri nomi Sono Bonaccini Schlein Provenzano Il sindaco Di Pesaro Non esclude La disponibilità Che stavolta Sia della partita C'è chi sostiene Convintamente Che dopo Letta Tocca ai sindaci La richiesta Qual è? È quella Di ripartire Dai territori Dalla provincia Dove Il partito Democratico Continua a perdere Lo stesso Ricci Ieri Commentando L'esito Delle elezioni Ha dato Una indicazione Sulla ripartenza Dopo la sconfitta Elettorale Nelle prossime ore Ha detto Proverò a fare Un'analisi Del voto Approfondita Ma due cose Le posso già dire Per prima cosa Il problema Non era il campo O l'alleanza larga Ma non essere riusciti A farla Poi Non si può Che ripartire Dai sindaci Progressisti E riformisti Dalla sinistra Di prossimità I comuni Sono l'unico livello Istituzionale Dove Governiamo Con il 70% Dei sindaci Di centro-sinistra Insomma Questo è ancora Un dato significativo Urbino A Urbino La crescita Di Fratelli d'Italia Come abbiamo detto È esponenziale Meloni È stata Moltiplicata Per 6 Lega a metà Fratelli d'Italia Passa dal 3 Al 19% Guardate quindi Come le percentuali Sono significative Sempre più sottile Invece il margine Del centro-destra Sul centro-destra Del PD Sceso dal 32 Al 29% E intanto Il terzo polo Arriva Va all'8% Ed è la quarta forza Perché la terza forza A livello nazionale È il Movimento 5 Stelle E intanto A Fano Fratelli d'Italia Diventa il primo partito Al posto Della Lega Spodestata La Lega Che rispetto alle ultime Regionale Perde 16 punti Il Partito Democratico Pensa a ricocire Con il 5 Stelle Azione E sopra la media Nazionale E pur perdendo Molto A Fano La Lega Riesce a mandare Un suo esponente Fanese Appunto Mirko Carloni In Parlamento Alla Camera E qui vediamo I risultati In questa tabella I risultati Raggiunti A Fano Dalle forze politiche Sia per quanto riguarda La Camera Che per quanto riguarda Il Senato La Meloni Alla Camera Conquista Il 24,42% Al Senato Il 25,73% La Lega Scende Al 10,58% Aveva E al Senato Il 9,90% Forza Italia Forza Italia 7% Alla Camera 6,20% Al Senato E poi abbiamo Noi moderati Lo 0,71% Alla Camera Lo 0,72% Cambia poco Al Senato Il Partito Democratico Ha il 21,59% Alla Camera E il 21,52% Al Senato Pochissima la differenza Tra una Camera E l'altra Del Parlamento E poi abbiamo L'Alleanza Verdi e Sinistra 3,76% Alla Camera E 3,77% Al Senato L'Europa Di Emma Bonino 3,42% E 3,57% L'impegno civico Di Di Maio Una percentuale minima Lo 0,48% E lo 0,50% Azione Calenda e ricci L'8,14% L'8,17% E il Movimento 5 Stelle 13,33% E 13,58% 13,33% Alla Camera E 13,58% Al Senato Ok Questi sono i risultati Ottenuti A Fano Poi vediamo Invece Molte pagine Molte pagine Che riguardano Tutti i risultati Elettorali Che sono Ottenuti Dai comuni Della nostra Provincia Da Acqualagna Qui sono In ordine Alfabetico Quasi In ordine Alfabetico No, no Sono proprio In ordine Alfabetico E vediamo Da Acqualagna Fino a terre Roveresche I risultati La rimonta Dei 5 Stelle Passa Intanto Per tutti i comuni Bene Grillini Dopo l'alluvione A Cantiano L'affluenza Più bassa Appena il 40% Al voto Ma anche qui Il centro-destra Si impone A Cantiano Se ne sono ricordati Molti non sono andati A votare Ma il centro-destra Supera Il 38% Mentre il centro-sinistra E almeno 10 punti sotto In questa città Che ha avuto Una grande disgrazia Ed ora Passiamo Alle altre Notizie Abbonamenti Bus A 300 euro Un salasso E la protesta Di una mamma Per quanto riguarda Il costo Del trasporto Scolastico Ed evidenzia Come a Bologna Per tutto l'anno Costa 154 euro Addirittura Milano 200 Ed è compresa Anche la metro Ebbene Nella provincia Di pesaro 300 euro A carico Di una famiglia Dopo che Essa Deve sostenere Tutte le spese Scolastiche Dei libri Della cancelleria E di tutto Insomma Non è poco E soprattutto In questo periodo Di grande Di grande Crisi Per le famiglie Le altre notizie Ecco Le polemiche Che sono scaturite In consiglio comunale C'è stata una interrogazione Di malandrino Per sapere Dei particolari Delle spese Sostenute dal comune Per il viaggio Di Matteo Ricci A Los Angeles Dove è stata inaugurata La stella Di Pavarotti Vediamo qui Il sindaco Matteo Ricci Con il vice sindaco Vimini E il rappresentante Del ROF Della Chiara Una trasferta Costata Alle casse Del comune 1861,41 euro Il primo cittadino E' stato l'unico Per cui L'amministrazione Comunale Ha aperto La procedura Di missione Il vice sindaco Daniele Vinimi E l'altro E l'altro Esponente Sembra che Siano stati A carico Del bilancio Del ROF Potrebbero Avere speso Di tasca propria O essere Rientrati Nel conto Da 20.000 euro Sostenuto Da ROF Alla società Albedo Production Autrice Del progetto Non si sa Insomma Anche le spiegazioni Che sono state date In merito A questa Interrogazione Non sono state Molto chiare E quindi Rimane In sospeso Il mistero E l'incognita Di questa Vicenda Invece È molto chiaro Il problema Del caro Bollette Il caro Bollette Il comune Stanzia 320.000 euro Serviranno Per scuole Palestre Uffici Intanto Va a gonfie vele L'incasso Dagli oneri Di urbanizzazione Dalla edilizia E questa È una Entrata Del comune Che può servire Appunto Per pagare L'aumento Del costo Delle fonti Energetiche Perché anche il comune Subisce questi Aumenti Ospedale Imbrattato Con lancio Di escrementi Con un compasso E scritte Anche nell'ambulatorio Dio Torino Del San Salvatore Con la scritta Infami Indaga la polizia Chiamata Dalla direzione Sono stati È un atto Vandalico Questo Un atto Di protesta Ovviamente Scrementi Lanciati Contro l'ospedale San Salvatore Di Pesaro Disseminati Lungo le scale Del padiglione F Che costeggia Via Oberdan Sono stati visti Dal personale In servizio Che lo ha segnalato Alla direzione Subito dopo È stata chiamata La polizia Per una verifica Sembra che qualcuno Si sia introdotto Nella rampa Di scale Oltrepassando La recinzione È una volta All'interno Abbia appunto Disseminato Questa sporcizia Questi scrementi Lungo le scale Ma non è finita qui Perché a distanza Di qualche giorno È comparsa Una scritta Nella bacheca Della sala Della sala di attesa Del padiglione C All'esterno Degli ambulatori Medici La scritta Lasciata È infami Quindi anche qui Una indagine Per una protesta Che è stata Espressa Questo quanto dice Oggi il resto Del carlino Ma anche il Corriere Adriatico Oggi è molto Voluminoso Parla diffusamente Delle elezioni Evidenzia Con grande Importanza La vittoria Di fratelli D'Italia Fratelli D'Italia Incontenibile Lega Scende Impicchiata Il flop Dei Democrat Nelle marche Cappotto Del centrodestra Negli uni nominali 6 su 6 L'esecutivo Aquaroli Supera L'esame Tre assessori Eletti A Roma Ed ora Appunto Aquaroli Dovrà Procedere Alla sostituzione Di questi tre assessori Di cui ancora Non si fanno nomi Tutto Tutto tace Il partito Mattatore Il partito Mattatore Pesca Dagli Alleati E dagli esoli Del movimento 5 Stelle Fratelli D'Italia E a più 180 mila Voti Sulle 2018 Pensate 5 Stelle Invece Scende A 213 Mila La Lega Perde 93 mila Elettori Forza Italia 36 mila E 500 Il PD Meno 35 mila Questi sono I dati Da una parte Esaltanti Da una parte Deludenti Per quanto riguarda La vittoria E la sconfitta Su due pagine Poi Il Corriere Adriatico Evidenzia I volti E i nomi Di chi Andrà in Parlamento A rappresentare La nostra regione Vediamoli Chi sono Questi nuovi Deputati E senatori La senatrice Elena Leonardi Di Fratelli D'Italia Ha superato Il turno Nella Uninominale Di Marche Sud Senatore Anche Antonio De Poli Dell'Udc Uninominale Di Marche Nord E poi I deputati Mirko Carloni Lega Uninominale 4 Provincia Di Pesaro Giorgia Latini Della Lega Uninominale 2 Provincia Di Macerata Deputato Anche Giorgio Fede Plurinominale Movimento 5 Stelle Riccardo Marchetti Plurinominale Della Lega Francesco Battistoni Uninominale Nella provincia Di Fermo Ascoli E poi Senatore Alberto Losacco Plurinominale Del Partito Democratico Guido Castelli Di Fratelli D'Italia Senatore Anche Roberto Cataldi Plurinominale Del Movimento 5 Stelle Eccolo In questa Fotografia Veniamo ai deputati Lucia Albano Di Fratelli D'Italia Irene Manzi Del Partito Democratico Stefano Benvenuti Gostoli Del Uninominale 3 Ancona Antonio Balvelli L'abbiamo Già detto Con grande Evidenza Plurinominale Di Fratelli D'Italia Augusto Curti Plurinominale Del Partito Democratico Ovviamente Ci sono Poi anche Gli altri Sconfitti Quelli che Non gliel'hanno Fatta Comunque La Lega Tempesta Perfetta Abbiamo lavorato Tanto Questo risultato Brucia Il coordinatore Marchetti Commenta Un risultato Migliore Lo abbiamo Tenuto Nel centro Italia Ma Pensavamo Di raggiungere Nelle Marche Almeno Il 13% Ed è stata Un deludente Risultato Nel PD Il grande Sconfitto Ricci Punta Al dopo Letta Il sindaco Di Pesaro Sarebbe Intenzionato A candidarsi Alla guida Del Nazareno Al prossimo Congresso Nazionale È stato Il primo A realizzare Quel campo Largo Con il Movimento 5 Stelle Ma non è Riuscito All'attuale Che non è Riuscito All'attuale Leader E questo Un po' L'intento Del sindaco Di Pesaro L'abbiamo Visto E vedremo Se giungerà In conclusione Noi come L'Araba Felice Il recupero Galvanizza I 5 Stelle Fede Con il Partito Democratico Senza Letta Ebbè Se c'è un Progetto Chiaro Disposti A ragionare Ebbè Si pensa Ora Subito Alle prossime Amministrative Del 2024 Dove Sembra Che Il Partito Democratico Cerchi Di recuperare L'alleanza Con il Movimento 5 Stelle Vedremo Poi Come Andrà A finire Vediamo Ancora I commenti Che vengono Fatti Qui Abbiamo I commenti Di Battistoni Più Voce Ai Nostri Agricoltori La Latini Torna Roma Il mio Grazie A Salvini Gostoli Una Svolta Storica Ora È Pronta A Cambiare Carloni Niente Festa Dice C'è Subito Da Lavorare Lo sconfitto Masini Una Campagna Bella Un Risultato Doloroso Ovviamente Per il Perdente E poi Ancora Vediamo Qui La Elena Leonardi La Priorità Il Post Sisma La Leonardi Fa il Pieno Di Voti Al Senato E Partiremo Dalla Luvione De Poli L'eletto Della Provincia Di Pesaro Urbino Sbaraglia Tutti E Pensa Alle Zone Martoriate Per la Ricostruzione Il Modello È Quello Del Ponte Minardi Il Commissario Cambia Scranno In Parlamento Battistoni Tiene Alto Il Vessillo Di Forza Italia E Passa Al Senato Alla Camera Fede Movimento 5 Stelle Recupera Al Proporzionale E Ancora L'APD Miri Marziali Non Vince Nemmeno Monterubiano Dove È Sindaca Ebbene Anche qua Una selva Di nomi Di percentuali Per quanto riguarda I risultati Delle elezioni Abbiamo Comuni Qui di Tutte le Marche Non solo Quelli Della provincia Di Pesaro Urbino Vediamo Qui Come Pagina Su Pagina Questi Dati Vengono Vengono Appunto Enunciati Dal Corriere Adriatico Ed Ora Lasciamo Le Elezioni Perché ci sono ancora pagine e pagine di commenti Li vedete Li vedete qui E partiamo dalle notizie di cronaca San Benedetto Dopo il fuoco spento Sicurezza rafforzata contro i vandali L'Azur Area Vasta 1 Annuncia interventi per ostacolare l'ingresso di intrusi al vecchio manicomio Qualcuno Nei giorni scorsi ha dato fuoco Un fuoco che per fortuna è stato represso in tempo Prima che divampasse alle altre strutture E quindi ora si corre ai ripari Banca Marche Le richieste dei PM Condanne per 130 anni di carcere In 13 rischiano per il crack dell'istituto di credito Che ha danneggiato tanti piccoli risparmiatori La pena più severa richiesta per Bianconi Quasi 130 anni di reclusione complessivi Questa è la maxi richiesta formalizzata ieri dalla procura Per i 13 imputati del processo nata dal defo miliardario di Banca Marche I PM Marco Pucilli, Serena Bizzarri e Andrea Laurino Si sono pronunciati al termine di una lunga e complessa requisitoria Partita dall'inizio della scorsa udienza il 19 settembre E poi la trasferta a Los Angeles per Pavarotti al comune È costata meno di 2.000 euro Abbiamo visto 1.861 euro la cifra esatta L'assessore Nobili ha illustrato la spesa in consiglio Dopo l'interrogazione di Malandrino Vediamo qui due protagonisti Ma gli interrogativi ancora restano E poi il Corriere Adriatico parla del prezzo del pesce Perché sono passati pochi giorni dalla fine del fermo pesca Ma quel calo tanto desiderato, tanto evidenziato In realtà non si è verificato Sì, sono calate le triglie Un pesce che in questo momento è molto prolifico in Adriatico Il fermo pesca ha così aiutato la riproduzione dei piccoli appena nati Ma che succede? Succede che i prezzi sono rimasti alti Al dettaglio le specie di qualità Quotate oltre 20 euro al chilo Ora si afferma la vendita per quantità Ovvero si vende al cartoccio e non più a pesaro Una quantità di pesce messa su una carta E il prezzo accanto Quante non si sa Però insomma l'immagine invoglia il consumatore ad acquistare Ebbene questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta Vi dà appuntamento a domani alle ore 7 Buona giornata A risentirci